Con 3822 voti favorevoli e due soli contrari, l'Assemblea dei Soci di Chianti Banca, riunita oggi a San Casciano Valdipesa, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato, a larghissima maggioranza appunto, quasi plebiscitaria, l'adesione di Chianti Banca all'Istituto della Holding, coordinata da Cassa Centrale Banca. Chianti Banca quindi mantiene l'appartenenza al mondo cooperativo. Abbiamo deciso di raccogliere l'invito di Cassa Centrale Banca, cioè di creare un gruppo cooperativo italiano, sarà probabilmente il sesto gruppo bancario italiano. Chianti Banca ririrà questo gruppo, sarà probabilmente la banca più grossa di tutto il gruppo e la banca di riferimento in Toscana. Questa è una decisione importante perché questa scelta di oggi rafforzerà la nostra dinamica di crescita nell'ambito di un gruppo molto solido, che ha un coefficiente patrimoniale intorno al 20%, dunque una delle banche più solidi in Italia. Chianti Banca che negli scorsi mesi aveva annesso al suo interno le cooperative di Prato e Pistoia, da qui adesso anche il rimodulare delle filiali e l'apertura di nuovi sportelli in tutta la Toscana, soprattutto sulla costa. Lasciamo delle aree 24 ore, quindi evolve la forma distributiva come la tecnologia impone e cerchiamo queste licenze di utilizzarle nelle zone a più alto potenziale per noi. Crediamo però dove c'è bisogno di una buona banca, attenta alle piccole e medie imprese, attenta alla gente, corretta nei comportamenti con servizi di qualità. E quindi mi sembra che in Toscana, anche se noi ci espandiamo, investiamo in filiali, che tuttora permanga un po' un vuoto d'offerta di una banca che abbia a cuore fino in fondo i toscani e le imprese eccellenti, tante che ci sono in Toscana. Chianti Banca che chiude con indici molto solidi. In questo 2016? Già oggi abbiamo dei segni più sul profilo commerciale, profilo economico, gli aggregati patrimoniali crescono, quindi sono fiducioso che nel 2017 anche queste zone possano fornire il supplemento al reddito, non solo. Insomma, no all'SPA, ma all'espansione, all'interno del credito cooperativo. Con la creazione di questo nuovo gruppo si è aperta una nuova strada che consente di crescere all'interno del gruppo cooperativo, cosa che forse sarebbe stata difficile se ci fosse stato un solo gruppo cooperativo. Essendo due gruppi, uno di questi poco presente in Toscana, per noi l'adesione come Chianti Banca a questo gruppo alternativo ci dà la possibilità di realizzare questa crescita con le radici cooperative.